buonasera a tutti e benvenuto nel mio canale oggi studieremo il capitolo nono che riguarda la limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo ovviamente per le patenti superiori patente c con estensione ce trasporto di merci specchi retrovisori e visibilità iniziamo subito in un veicolo pesante lo specchio retrovisore esterno principale destro permette la visione indiretta di un tratto di strada retrostante a destra del nostro veicolo eccolo qui lo specchio retrovisore ma ce ne saranno molti più di uno specchio di accostamento specchio anteriore destro specchio grandangolare in un veicolo pesante lo specchio retrovisore grandangolare consente di allargare l'angolo di visibilità controllato dal retrovisore principale vedete quindi qua abbiamo lo specchio grandangolare che serve proprio allargare questo angolo cieco che si va a creare infatti ogni anno circa 400 persone muoiono in incidenti stradali perché non sono viste dai camionisti che svoltano a destra se già da quest'anno i nuovi veicoli commerciali pesanti di peso superiore a 35 quintali devono essere dotati di specchietti retrovisori grandangolari al fine di eliminare gli angoli ciechi gli automezzi più vecchi circa 5 milioni di unità continuano a rappresentare un rischio per pedoni ciclisti e centauri cioè ciclomotoristi e motociclisti vedete che si va a creare proprio quell'angolo cieco ciclisti pedoni e motociclisti a questo è stato aggiunto questo specchietto chiamato appunto grandangolare in un veicolo pesante lo specchio d'accostamento attenzione specchio d'accostamento permette di visualizzare la zona sottostante la portiera lato passeggero ripeto lato passeggero se vi dice lato conducente è falso vedete è questo qui obliquo che sta proprio dalla parte superiore del portellone eccolo qua e viene chiamato appunto specchio d'accostamento eccolo qua in un veicolo pesante lo specchio anteriore permette di vedere meglio la parte bassa della zona anteriore del veicolo quindi la parte bassa della zona anteriore del veicolo eccoci qua visuale perfetta in un veicolo pesante sempre in un veicolo pesante lo specchio retrovisore esterno principale sinistro permette la visione indiretta di un tratto di strada retrostante a sinistra del mio veicolo campo di visibilità da un autoveicolo il campo di visibilità in un autoveicolo può essere limitato tra l'altro dai montanti della carrozzeria vedete qua abbiamo lo schema che da non confondere con i longheroni vedete i longheroni i fondi il parafango interno il montante posteriore il tetto giro tetto e i montanti e carrozzeria staccabile quindi tutta la scocca e all'interno ci sono i montanti tali montanti possono condizionare molto in maniera negativa si intende per la visibilità del conducente quindi più grandi saranno questi montanti e meno visibilità possono offrirci andiamo avanti infatti in un prossimo futuro i montanti saranno invisibili in un prossimo futuro grande e come ci dice doc il campo di visibilità in un autoveicolo può essere limitato tra l'altro a causa dell'altezza del veicolo stesso più alto sarà e meno visibilità può offrirci inoltre l'altezza è anche sinonimo di baricentro quindi più alto sarà il baricentro è meno stabile il veicolo il campo di visibilità in un autoveicolo può essere limitato tra l'altro dalla cattiva disposizione del carico e infatti nelle lezioni precedenti abbiamo spiegato come distribuire il carico vedete dal primo sguardo generale queste tre opzioni vediamo che il primo e il secondo tutto a posto perché nel primo il carico è distribuito correttamente perché è concentrato su tutto il pianale oppure se è un singolo collo molto alto quindi un unico collo molto pesante invece deve essere concentrato posizionato regolarmente al centro dei due assi vedete in modo che il baricentro non si sposta troppo avanti o indietro in questo caso il carico è concentrato posizionato male perché il baricentro è troppo avanti oppure qua abbiamo realizzato una parete anteriore che costituisce un elemento di bloccaggio e trattene il carico in frenata perché ad ogni frenata si sposta in avanti ad ogni accelerata si sposta all'indietro vedete qua abbiamo le due configurazioni col carico corretto e il carico scorretto poi ancora la configurazione del carico e scarico vedete prima avevo la massa del carico 10 tonnellate 18 adesso qua 15 perché meno 3 tonnellate abbiamo scaricato il campo di visibilità in un autoveicolo può essere limitato tra l'altro dall'assenza dell'unotto posteriore vedete certo perché in mancanza dell'unotto posteriore noi non abbiamo la visibilità visibilità diretta e indiretta della strada regolazione degli specchi per garantire una miglior visibilità diretta della strada è necessario evitare di lasciare sul cruscotto cartine, agende, appunti in particolare se di colore chiaro perché potrebbero creare pericolosi riflessi sul parabrezza per garantire una miglior visibilità diretta della strada è necessario sostituire le spazzole tergicristallo quando non sono più in buono stato di efficienza per garantire una miglior visibilità diretta della strada è necessario evitare di tenere accese le luci interne del veicolo nelle ore di buio perché limitano l'adattamento dell'occhio alla visione notturna infatti nelle ore notturne gli occhi diventano più sensibili alla luce riducendo la visibilità sull'asfalto per garantire una miglior visibilità diretta della strada è necessario evitare l'appannamento del parabrezza e delle vetrate laterali per garantire una miglior visibilità diretta della strada è necessario che il sedile di guida sia regolato correttamente in altezza e qui abbiamo tutta la panoramica la visibilità indiretta attraverso specchio telecamere consente di vedere zone altrimenti non visibili direttamente dal conducente queste sono le telecamere soprattutto quando facciamo le manovre della retromarcia alla guida di un mezzo pesante bisogna considerare che la visibilità indiretta attraverso specchio telecamere lascia comunque delle zone d'ombra cioè angoli morti della visuale dove non è possibile scorgere veicoli o pedoni infatti come possiamo vedere in figura notiamo che il camionista sul lato destro sul fianco destro non riesce a scorgere la presenza di un ciclista proveniente da una pista ciclabile e questo risulta molto pericoloso anche durante un sorpasso di autoveicoli queste sono le due opzioni in cui il conducente dell'autocarro non ha visibilità anche da qui in prossimità dell'attraversamento pedonale anche qui abbiamo un altro slide dove si vede si vede benissimo che ci sono tre punti critici la zona antistante del lato carro il suo fianco destro il suo fianco sinistro e dalla parte posteriore questi sono i tre angoli ciechi questo equivale anche all'autobus quindi ci saranno questi angoli ciechi che si vanno a creare durante la marcia l'autobus in più è dotato di sbalzi anche sbalzi posteriori, sbalzi anteriori e quant'altro quindi pure qua abbiamo tre entità angoli ciechi zona antistante zona fianco destro fianco sinistro e posteriormente poi anche i montanti fanno il resto vedete gli angoli ciechi no zone vedete sono tutte le zone invisibili dall'occhio umano causa della sagoma del veicolo dei montanti eccetera la visibilità indiretta attraverso specchio telecamere è efficace solo se gli stessi sono orientati correttamente la corretta regolazione degli specchietti tra i visori dei mezzi pesanti è un elemento fondamentale per la riduzione degli incidenti che li vedono coinvolti per una corretta regolazione degli specchi tra i visori dei mezzi pesanti bisogna considerare che la visibilità della parte laterale destra è particolarmente importante infatti la svolta a destra che di norma tutti i veicoli la fanno strettamente a destra per il camion dovrà stare attento perché oltre ad allargarsi potrebbe schiacciare qualche veicolo invadere marciapiede o visibilità da cui non vede tra ciclisti i pedoni vedete quindi la parte destra sarà meno visibile vedete ciclista adesso sempre riguardanti all'alimentazione del campo visivo inerente però solo al trasporto di merci e non persone la presenza di un rimorchio agganciatore ed è ancora più importante il corretto orientamento degli specchi tra i visori esterni vedete in modo che noi dobbiamo scorgere anche un terzo del semirimorchio o rimorchio in modo da non invadere su marciapiede ecco la visuale perfetta durante il rientro in corsia di marcia dopo un sorpasso quindi il sorpasso si fa a sinistra e si rientra a destra la presenza di un rimorchio agganciato obbliga il conducente a verificare con attenzione attraverso gli specchi tra i visori destri la posizione del rimorchio rispetto al veicolo sorpassato certo perché lo spazio di manovra del sorpasso è maggiore lo spazio di manovra del sorpasso è maggiore perché abbiamo anche i rimorchi agganciato dietro ok a bordo di un autotreno durante le svolte a destra nei centri urbani è fondamentale controllare attraverso gli specchi che il rimorchio non invada in marciapiede se no per causa di forza maggiore come in questo caso qui è costretta ad invadere a bordo di un autotreno durante le svolte a destra nei centri urbani è fondamentale controllare attraverso gli specchi che il rimorchio non vada a urtare ciclisti o ciclomotoristi presenti nelle vicinanze a bordo di un autotreno o di un articolato durante le svolte a sinistra all'uscita di una strada stretta l'autista deve tenere presente il pericolo che rappresenta in quanto perde visibilità dagli specchi posti sul lato destro per effetto della maggior rotazione della motrice rispetto al rimorchio o al semirimorchio infatti non faranno lo stesso percorso durante la corona circolare infatti noi abbiamo studiato nelle lezioni precedenti la fascia di ingombro e poi entrano in gioco anche delle forze della fisica forza centripeta forza centrifuga che dipende dal raggio di curvatura durante il rientro in corsia di marcia dopo un sorpasso la presenza di un semirimorchio agganciato obbliga e conducente a verificare con attenzione attraverso gli specchi dei televisori destri la posizione del semirimorchio rispetto al veicolo sorpassato siamo giunti alla fine del capitolo nono parte completa per le patenti superiori C con estensione CE trasporto di merci spero di esservi stato d'aiuto con me sarei sempre aggiornato nelle lezioni delle patenti C CE e anche D DE trasporto persone e ovviamente anche nella CQC carta qualificazione del conducente qualsiasi tipo di patente io sono sempre qui visibilmente per gli allievi che mi conoscono e virtualmente anche sul mio canale di YouTube ciao e alla prossima e ricordatevi sempre allacciati la cintura di sicurezza mantieni la distanza di sicurezza non superare i limiti di velocità e ricorda se bevi non guidi e se guidi non bevi ciao